Ciao a tutti, oggi giochiamo con X-Job, indovina il mestiere misterioso. X-Job è un gioco per tutti, a partire dagli 8 anni, si gioca da 3 a 4 giocatori. Una partita dura all'incirca 30 minuti, stimola l'intuito, la cultura generale e la logica. La scatola contiene 40 carte X-Job, 1 spinner, 4 lavagnette, 4 pennarelli, una scheda segnapunti. X-Job è un gioco per indovinare mestieri misteriosi attraverso alcuni indizi. Ciascuna carta riporta i nomi di mestieri con i simboli della competenza chiave per quel mestiere. Le competenze sono corporea, finomotoria, linguistica, naturalistica tecnologica, personale, visivo-spaziale, logico-matematica, musicale. Come si gioca? Si mescolano le carte X-Job e si dispongono coperte, a mazzetti, al centro del tavolo. Ogni concorrente prende un pennarello e una lavagnetta. Si tiene lo spinner a portata di mano. Il giocatore più anziano inizia il turno, pesca una carta e gira lo spinner, che determinerà, in base al colore uscito, quale sarà il mestiere misterioso. In questo caso, il calzolaio. Quindi dirà ad alta voce qual è la competenza chiave del mestiere misterioso e, in base alla sua esperienza, proverà a fornire il primo indizio. Ad esempio, sa riparare. Obiettivo del mazziere è riuscire a far indovinare il mestiere a uno solo degli avversari. Ciascun giocatore scrive la propria soluzione sulla lavagnetta e poi si verificano le risposte. Se nessuno ha indovinato, il mazziere svela un secondo indizio e si procede allo stesso modo fino a un massimo di tre indizi. Se un solo giocatore indovina il primo indizio, egli guadagna tre punti e il mazziere ne guadagna sei. Se un giocatore indovina il secondo indizio, egli guadagna due punti e il mazziere ne guadagna quattro. Se un giocatore indovina il terzo indizio, guadagna un punto e il mazziere ne guadagna due. Se due o tre giocatori indovinano il mestiere, guadagnano tre punti, due punti, un punto, a seconda degli indizi svelati, mentre il mazziere non guadagna punti. I punti guadagnati si segnano sull'apposita scheda. Vince chi arriva per primo a 30 punti. Bene, siete pronti a giocare X-Job e scoprire tanti altri giochi e allenamenti?